Vorrei raccontarvi la storia di un uomo, un uomo davvero straordinario, che viveva moltissimo tempo fa. Lui è nato, la data non è proprio certa, ma all'incirca attorno al 470 prima della nascita di Gesù Cristo. Quest'uomo si chiamava Socrate e Socrate viveva in una città della Grecia antica che si chiama Atene e che molti di voi sicuramente avranno già sentito. Socrate non faceva un lavoro come gli altri, che potevano fare chi il calzolaio, chi l'uomo politico, chi il commerciante. Socrate viveva ad Atene, aggirandosi per la piazza e per il mercato e facendo una cosa molto strana, molto particolare. Socrate faceva delle domande. Il signor Socrate quindi per tutto il giorno se ne andava in giro ad Atene facendo delle domande alle persone. Ora, questa modalità un po' strana di rapportarsi agli altri, di fermarli e di chiedergli delle cose, ad esempio, scusami, tu cosa pensi che sia la bellezza? Oppure tu cosa pensi che sia l'uomo buono? Era il mestiere di Socrate, perché Socrate, che faceva domande per tutto il giorno ad Atene, infastidendo anche un po' le persone che avevano da fare il loro lavoro o dei loro affari, era precisamente il mestiere di filosofo. Socrate era un filosofo, questa parola strana che in realtà è molto semplice. È in realtà una parola composta da due parole. Philosophos sono parole greche che vogliono però dire qualcosa di molto semplice, amore per il sapere. Socrate era un uomo che di mestiere faceva l'innamorato del sapere, cioè qualcuno che amava tantissimo sapere le cose, scoprire cose nuove, andare a vedere là dove gli altri magari non si pongono nessuna domanda. Ecco, Socrate voleva sapere. In questo senso Socrate ha inventato un nuovo modo di pensare, perché anche noi facciamo spesso tante domande, soprattutto i bambini fanno molte domande e chiedono sempre il perché delle cose. Qualcuno vi dice qualcosa e voi magari chiedete ma perché è così? Perché hai detto questo? Come si fa quest'altra cosa? Ecco, questo modo di fare domande è un modo di cercare di capire come vanno le cose del mondo, come pensano le persone, cosa pensano le persone, ma noi lo facciamo non tutto il giorno, lo facciamo in un momento e spesso quando diventiamo grandi perdiamo anche questa bellissima abitudine a domandare. Pensiamo ormai di sapere tutto, pensiamo di sapere come va il mondo, come vanno le persone e in realtà noi ci perdiamo tantissimo. Ecco, Socrate era come un uomo molto bambino che si poneva tantissime domande perché? Perché Socrate ripeteva spesso io non so niente o meglio io so di non sapere. Ecco che uomo straordinario era Socrate. Non era un uomo straordinario perché sapeva tantissime cose, era un uomo straordinario perché aveva capito di non sapere quasi niente e che l'unico modo che aveva per scoprire le tante cose, per scoprire le cose importanti del mondo, della vita, della natura, delle persone, era farsi sempre tante domande. E allora ad un certo punto lui pensa che questo sia il suo mestiere o meglio sia la sua vita. La sua vita era fare filosofia, cioè fare tante domande. Ora queste domande non sempre erano domande semplici, a volte le domande sono domande difficili a cui non si ha risposta. Talvolta anche i bambini fanno ai propri genitori delle domande per cui i genitori non hanno una risposta precisa, perché sono domande difficili. Ad esempio uno dice cosa c'è dopo la vita? Cosa c'è? Chi ha fatto nascere il mondo? Da dove vengono le cose? Sono domande molto complesse. I filosofi si fanno proprio queste domande. Il signor Socrate si faceva proprio questo tipo di domande. Aveva risposte a tutto? Assolutamente no. Socrate faceva tante domande perché lui per primo non aveva le risposte. Socrate non aveva la verità. Socrate non era uno di quelli che pensano di sapere tutto e vi dicono adesso vi racconto io come vanno tutte le cose. No, Socrate veniva lì a farvi delle domande. Perché? Perché Socrate almeno una cosa la sapeva, che se ci si mette insieme, si pensa insieme facendosi tante domande e cercando di dare delle risposte, insieme si scoprono le cose. Da solo uno non può pensare già di sapere tutto. Neanche un maestro sa davvero tutto. Deve in qualche modo usare le altre persone per arrivare a delle conclusioni. Ora questo che è una sorta di gioco della domanda e della risposta che Socrate faceva e che chiamava filosofia è una forma di dialogo. Ecco perché Socrate non solo ha inventato la filosofia come domanda e risposta ma ha detto chiaramente che la filosofia come domanda e risposta è un dialogo tra le persone, è un dialogo tra tutte le persone. Attenzione perché Socrate non è che fosse un filosofo che dicesse guardate questa cosa delle domande e delle risposte, questo tentativo di dialogare lo fanno solo gli adulti, solo le persone che sanno, solo quelli che hanno letto tanti libri. Vedete dietro di me tanti libri ad esempio? Bene, Socrate non aveva neanche un libro, a quanto si sa. Quindi Socrate era qualcuno che pensava che tutti potessero partecipare a questo gioco filosofico della domanda e della risposta, a questo dialogo. Però dovevano almeno avere una caratteristica, cioè essere molto curiosi, essere desiderosi di sapere, amare sapere. Una cosa che ci racconta un altro filosofo che è stato poi un allievo di Socrate, uno dei suoi studenti, chiamiamolo così, Platone, è che questo desiderio di sapere è una forma di amore. Socrate era innamorato delle cose da sapere, era innamorato delle cose da ricercare, aveva proprio una sua passione. Un po' come qualcuno che può essere appassionato di un gioco, di uno sport, Socrate era appassionato di tutte le cose che si potevano sapere. Quando faceva queste domande, però vi dicevo già prima, le faceva un po' difficili a volte, a volte erano anche un po' scomode, uno ci doveva pensare molto perché non gli veniva la risposta. E allora dicevano che Socrate assomigliava a un animale che vive nel mare, a una torpedine, che è una specie di razza e però se la toccate vi dà la scossa. Ecco, Socrate era una razza, una torpedine che quando vi toccava con le sue domande vi dava la scossa, ma non per farvi male, ma per svegliarvi. Perché a volte noi siamo come un po' così addormentati, non ci guardiamo intorno, non guardiamo noi stessi, non ci poniamo domande, magari siamo lì che guardiamo il cellulare. Ecco, Socrate arrivava e vi svegliava, vi diceva ehi, proviamo a pensare insieme, dialoghiamo, proviamo a porci delle domande. E in questo modo Socrate risvegliava gli uomini, risvegliava le persone, risvegliava tutti quelli che avevano voglia di dialogare con lui. E in questo modo cosa faceva? Faceva nascere i pensieri. Socrate aveva una mamma che di lavoro aiutava le altre donne a far nascere i bambini e questo lavoro si chiamava al lavoro di levatrice. Ora Socrate pensa al proprio lavoro di filosofo un po' come quel lavoro della sua mamma, cioè far nascere, ma non i bambini, ma i pensieri. Il filosofo è qualcuno, come il signor Socrate che ha inventato la filosofia tanto tempo fa ad Atene, che aiuta alle altre persone a far nascere i pensieri. Il filosofo non è qualcuno che vi dice quali siano i pensieri giusti da fare, non è qualcuno che vi regala dei pensieri o vi dica dovete pensare questo o questo. No, il filosofo, con Socrate, inventa un modo di pensare in cui ciascuno, anche la persona che non sa niente, o meglio, proprio quelli che sanno di non sapere niente, possono far nascere dei pensieri. Ed è una cosa bellissima, perché far nascere dei pensieri significa far avvenire delle cose assolutamente nuove, assolutamente mai viste, mai pensate. Ecco, la filosofia è questo dialogo tra le persone, questo gioco delle domande e delle risposte, in cui si fanno nascere pensieri. Quanti? Il più possibile. Perché più pensieri nascono, più il mondo sarà un posto in cui abitiamo meglio. Un mondo in cui non nascono più pensieri, in cui nessuno fa più nascere un pensiero, è un mondo molto triste, perché è un mondo più povero. Ecco la filosofia, con Socrate, fa nascere un'altra visione del mondo, un mondo popolato di tantissimi pensieri in cui tutti, dal più piccolo al più anziano, è chiamato a fare questo lavoro, far nascere dei pensieri nuovi.